Il 14 si celebra un passaggio molto importante, non solo per il mondo religioso, ma anche per la città di Fano e questo ospedale. Sì, il 14 c'è sempre la celebrazione liturgica della festa della Santa Croce, che per i nostri fratelli orientali è paragonabile alla festa della Pasqua, una festa grandissima, che noi in qualche maniera, proprio perché questo ospedale porta questo titolo e questa croce che vedete probabilmente ha seguito la storia di questo ospedale quasi forse fin dall'inizio, ecco nella domenica più vicina al 14 celebriamo appunto questa solennità insieme con il nostro Vescovo in maniera molto semplice, così come ogni giorno celebraremo la messa alle 6 e mezza appunto presieduta da Sua Escellenza il Vescovo, che ci rivolgerà la sua parola, sarà un momento così di incontro, un momento poi di fraternità e alla fine della messa ci traseremo anche sempre insieme appunto in quella fraternità nella quale ci accogliamo insieme gli uni gli altri. Per un momento, sì, di festa in un luogo, se volete, di sofferenza, le due cose non si contraddicono. Non si contraddicono proprio nel segno della croce, perché ecco dice un autore che Gesù non è venuto né a spiegarla né ad eliminarla la croce, è venuto soltanto ad accompagnarla, no? E in questo luogo in qualche maniera, ecco, sguardi che si incontrano con lo sguardo del Signore, problemi che a volte si risolvono, malattie che ecco rimangono tali, ma sempre con un segno di accoglienza, un segno di fraternità, un segno di accompagnamento, no? Ecco, il senso proprio del luogo e il senso anche di questa celebrazione che vuol raccogliere, se volete, il mistero che qui dentro si vive ogni giorno, questa presenza discreta ma efficace del Signore, vuol celebrarla e vuol rendere grazie.